La vera ricetta della carbonara Sarelliamo, bello tutto ragazzi Lo spessore è giusto Guanciale in padella fresca e lo mettiamo a sudare sul fuoco lento lento, piano piano, non deve friggere Sì vabbè ma metticele quando ce ne va Carnuso e croccante Prendi il nettare degli dèi, guardalo Prepariamo la carbocrema, tuorli nel pecorino Macinata di bove fresco Un po' di grasso di guanciale Vistiamo tutto L'acqua dove caliamo la pasta Andiamo a pastorizzare le uova La bacinella non deve stare a contatto con l'acqua Quando è così liscia è pastorizzata Messo l'ata di acqua di cottura nel guanciale e il suo grasso Passa direttamente in padella E lasciamo cucinare gli ultimi due minuti Spegniamo il fuoco ed aggiungiamo la carbocrema Ci dobbiamo superare Ci dobbiamo superare gli ultimi due minuti Ci dobbiamo superare gli ultimi due minuti